La tua passione per il verde, per la casa e per l'obbistica ha un punto fermo. Emporio Agricolo, tutti i migliori prodotti a prezzi imbattibili e i consigli professionali dei nostri esperti. Ad Albinia, Emporio Agricolo, ogni giorno scende in campo con te. Per il gol, per la prestazione della squadra o di aver tenuto testa la squadra? Soddisfatto per tutto, perché noi abbiamo bisogno di fare due punti possibili e chiaramente li abbiamo fatti contro una corrazzata. Come ho detto prima, una società, una squadra, una piazza che merita altre categorie superiori. Sono un po' soddisfatto per tutto, l'ho detto per un mio gol e sono contento, però l'importante oggi è contare i miei punti e le uscite. Senti, raccontaci un po' questi gol. Abbiamo un tiro che non era potenzissimo. No, ho tirato un po' orca, forse sono stato sicuramente fortunato perché il gol è molto probabilmente stato ingannato dal fango che ho un po' frenato la palla. Però insomma, altre volte sono stato sfortunato, quindi me lo prendo e più che altro ci sono dei tre punti che per noi sono abbastanza vitali. L'atteggiamento della squadra è stato molto giusto, possiamo andare a vedere che siano veramente ponte. Sì, sì, no. Insomma, lasciando i miei punti a giorni ci stanno. Sì, no, veramente sono consapevoli che quanto queste squadre qua, un po' per bravura loro, anzi sicuramente per bravura loro, qualcosa si è normale concede. Però siamo stati sempre concentrati, neanche cinque minuti e niente, ci siamo meritati secondo me in questa vittoria. E poi fa che la dopo volete? Sì, sì, dopo nel secondo campo magari qualche contropiare, siamo anche andati vicino, però insomma è andata bene così, avevo in giù l'azzaro e l'abbiamo visto. Sì, sì, davvero il campo è sempre abbastanza complicato, ma non ho mai visto anche trovare lo scavolo, il tanto di squadra. Avete sia al Pisa faticato come al Pisa? Sì, sì, veramente in questo campo c'è poche giocate, però abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi, sapevamo che il campo era questo, ma ne ricavate piovono tante, quindi eravamo già preparati. Come hai fatto il superloco all'argo perché non c'era ancora uno che voleva giurare? Ma non lo so, sicuramente essenzialmente quando siamo arrivati c'era tutta l'acqua, quindi era impraticabile, poi insomma dopo tolta l'acqua era sempre pesante, insomma abbiamo visto tanti, sì, io poi mi ricordo campi così, insomma, giocando da tutte le parti.